ciao a tutti oggi prepareremo il plum cake di mele e mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono mele uova panna fresca per dolci olio di semi di girasole zucchero farina di mandorle farina di tipo doppio zero lievito per dolci sale pasta di limone o scorza grattugiata di un limone mandorle a lamelle e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola posizionare la farfalla sulle lame aggiungere le uova ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per sei minuti 37 gradi velocità 4 aggiungere la panna l'olio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3 rimuovere la farfalla dalle lame aggiungere la farina di mandorle la farina di tipo doppio zero la pasta di limone il sale e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere le mele tagliate a cubetti ed amalgamare con la spatola versare il composto in uno stampo da plum cake ben imburrato mettere le mele tagliate a fette spoverizzare con lo zucchero semolato ed aggiungere le mandorle alla lamelle cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 50-55 minuti fare sempre la prova a stecchino plum cake mele e mandorle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti